ciao cari amici bentornati a un tè con elena oggi un mini video forse un po inconsueto rispetto al tema adesso vi spiego in questi giorni credo ieri o l'altro ieri parte che settimana credo questa settimana inizierà il festival di sanremo e ieri o l'altro ieri praticamente su alla radio su tanti sul web su giornali sono apparsi una serie di articoli per diciamo così commemorare il fatto che proprio al festival di sanremo nel 1983 veniva presentata cantata una canzone che peraltro credo si piazzò penultima la canzone dell'allora giovane vasco rossi che raccontava di essere guardato no per esempio da romina power e albano come l'ultimo dei degli umani tutti conosciamo masco rossi ma presentava questa canzone vita spericolata tutti la conosciamo voglio una vita spericolata e c'è una vita come steve mcqueen 40 anni fa perché ve ne parlo perché mentre andavo al lavoro e ascoltavo appunto i commenti sulle varie radio in merito a questo anniversario ho pensato che questa canzone e poi mi piacerebbe chiedere a voi quali sono le canzoni che hanno caratterizzato alcuni momenti della vostra vita sapete magari non ci pensavamo nemmeno passa a quella canzone alla radio magari siamo al supermercato magari siamo in macchina e improvvisamente come se pam scoppiasse qualcosa dentro di noi scoppiasse una sfera di cristallo di vetro piena di tutti i ricordi di quel periodo di quella giornata di quel momento le gioie i dolori una gita una vacanza un amore magari dei nostri 15 anni un evento triste un evento lieto e ascoltando questa canzone che io ho amato molto allora io quest'anno faccio i 60 anni ahimè che è una tappa un po cruciale sembra vero ci fanno lavorare fino ma insomma 60 anni la consapevolezza di non essere più ragazzini e neanche ragazzi e di avere sembra brutto dirlo però ho un collega che lo ripete sempre no abbiamo vissuto più vita precedente di quante ne abbiamo davanti io conto di campare fino a 120 130 ma 60 anni sono un bel traguardo e risentire vita spericolata poi una canzone che negli anni insomma uno anche riascoltato con i commenti mi ha fatto pensare a quello che quella canzone per me ma per noi ventenni del 1983 aveva un po rappresentato arrivavamo comunque da genitori che erano nati durante la guerra dopo la guerra per cui generazione cresciuta con dei limiti con delle certezze belle salde che dovevamo sfondare sapete quando si è adolescente o giovani si deve spezzare rispetto a quello che ci hanno dato i nostri e crearci la nostra strada e vasco rossi era la trasgressione al di là delle vicende di vita ma era il volere rispetto a quello che ci veniva insegnato che poi era giusto e poi l'abbiamo recuperato dopo tranne chi si è perso per strada purtroppo ma era il desiderio di avere una vita oltre i limiti una vita da cinema una vita da film come steve mcqueen in cui potevamo fregarcene anche delle norme sociali del di chi ci voleva secondo quello che che a loro stessi era stato insegnato per essere libere di scegliere la nostra vita appunto spericolata anche trasgressiva ma non necessariamente trasgressiva nel senso deleterio del termine poi è stata ricollegata anche alle vicende sappiamo di droga di vasco rossi ma il senso non era quello però quella canzone lì io ricordo in mente un'immagine in cui la mia amica fabia la cantavamo a squarciagola andando in macchina quelle cose sciocche ma che riempiono l'adolescenza o i 20 anni quelle cose che fa ai 20 anni e l'ho riascoltata ieri l'altro ieri e ho capito che quella canzone mi parlava e mi rappresentava 20 anni ma con un salto temporale che forse neanche vasco rossi allora riusciva a immaginare perché era molto giovane anche lui stranamente risentendola oggi dico caspita ma io parlo di me la elena dei 20 anni si ritrova nella canzone come la elena dei 60 perché poi ci ritroveremo a roxy bar citazione tra l'altro ha preso una canzone di un autore ormai dimenticato credo fred buscaglione no che notte in cui parla appunto del roxy bar ognuno a rincorrere sui guai cioè come se comunque la vita che poi non so se ci sono molti ragazzi giovani che mi ascoltano non credo la vita ci è passata davanti e dentro in un soffio chi ha la mia età sa che in alcuni momenti se chiudiamo gli occhi ci facciamo la domanda ma com'è che ieri avevo 15 anni oggi ne ho 60 e comunque risento emozioni e sensazioni che mi fanno sentire sedicenne vi ho parlato di un che avevo visto che era il piacere tutto mio che a me è piaciuto molto e un certo punto leo quando parla appunto con emma thompson ricordate questa signora emma thompson bravissima che si è concessa questa follia dopo la morte del marito dopo una vita stra adeguata in cui ha avuto i figli è stata una buona madre è stata una buona moglie è stata una buona insegnante fa questa follia di pagarsi un gigolo e a un certo punto lui le fa la domanda e ha più o meno quegli anni lì quindi l'età in cui si fanno i conti di quello che non ho fatto forse non potrà farlo più e lui dice ma tu vorresti riavere i tuoi 16 anni lei risponde no ma vorrei sentirmi come se avessi 16 anni e io ho pensato sentendo questa canzone perché forse le canzoni hanno anche questo potere magico no di di superare lo spazio del tempo no che scorre che scorre velocissimo e di mettere assieme il nostro sentirsi adolescenti ventenni trentenni col nostro sentirci poi sessantenni come nel mio caso no e credo che vita spericolata sia una di quelle canzoni infatti è sopravvissuta e ancora oggi una bellissima canzone a mio parere perché sono quelle canzoni che comunque io uso sempre questo termine no ti toccano dentro queste due parole perché credo che siano quelle canzoni che ti toccano dentro ovviamente toccando no corte di corde diverse come i tasti del pianoforte sono tanti ognuno ne mette una nota diversa ma tutti assieme compongono delle bellissime melodie se suonate ovviamente con competenza e così le nostre emozioni che si stratificano nel tempo ma ci sono tutte le farfalle nello stomaco dei vent'anni forse non le sentiamo più ma già averne il desiderio oppure sentirle farfalle per altre cose ci fa capire che in fondo in questo viaggio della nostra vita è anche un po' circolare ripassiamo da alcune situazioni da alcune emozioni più più volte magari le guardiamo con occhi diversi le sentiamo con un gusto diverso ma ci sono tutte sono lì e io le ho sentite e ho ripensato al significato che ho avuto una vita spericolata ma come altre canzoni nella mia vita così era un po' uno sproloquio con un po' di malinconia no ieri un collega mi ha detto questa vena malinconica che tu hai e me l'ha detto in senso di complimento perché dice le persone poi io non lo so se lo sono ma dice le persone intelligenti non possono prescindere dall'avvertire una vena di malinconia che non è la tristezza non è ma una sorta di comprensione come nel wabi sabi anche di questo vanno parlato della del tempo che passa e che comunque la consapevolezza del tempo che passa ci fa apprezzare l'attimo presente detto questo vi saluto scusate ma non poi una vena malinconica perché fra qualche mese compie 60 effettivamente è un bel traguardo grazie cari amici se vi è piaciuto quello che vi ho raccontato oggi mettete like poi come sempre se vi porterò anche altri contenuti magari un po meno malinconici iscrivetevi al mio canale youtube un tè con elena ciao ea presto buona serata